Allora, ciao ragazzi, non so se lo sapete, ma in questi giorni sulle isole Canarie, sull'arcipelago delle isole Canarie, Spagna, c'è in corso una grossa eruzione che comunque ha coinvolto, già distrutto un po' di case, hanno dovuto sfollare più di 5.000 persone e abbiamo una situazione abbastanza non bella. Vediamo un po', analizziamo un po' anche il discorso di che cosa sta succedendo, il perché sta succedendo e le ripercussioni che comunque possiamo avere poi anche a livello turistico, perché sicuramente la gente magari spaventata dice cosa vado a fare, vado alle Canarie che in questo momento ci sono in corso delle eruzioni. Allora, prima di tutto parliamo del discorso delle Canarie. Allora, uno degli errori che fanno i media o la gente che parla è che dice che in questo momento c'è un vulcano, in particolare sulla piccola isla di La Palmas, che sta eruttando un vulcano come se le Canarie fossero delle isole e c'è un vulcano. In realtà l'arcipelago delle Canarie, con le sue isole famose, la più famosa credo che sia Tenerife, Gran Canaria, ma mettiamoci anche Forteventura, Lanzarote, eccetera, eccetera, sono in realtà dei vulcani, cioè non è che sta eruttando un vulcano, tutte quelle isole sono un vulcano. Tenerife è un vulcano, Gran Canaria è un vulcano, sono tutti vulcani lì, perché non è che in mezzo all'Oceano Pacifico ci sono queste isolette venute su dal nulla, credo che lì l'altezza forse anche degli oceani arriva a 10, 10, 11, 12 mila metri di profondità. Lì sono spuntate fuori queste isole e sono la punta di vulcani. Se voi togliete l'acqua è tutto un vulcano lì. Nel corso delle migliaia di anni la fuoriuscita di magma ha praticamente creato e continua. Le Canarie ci sono costantemente sott'acqua, eruzioni, piccoli terremoti, piccoli maremoba, piccoli comunque. Quindi la punta di questi qui sono praticamente dei vulcani. Tanto è vero che Tenerife, lo vedi, il Tede è la punta praticamente della fuoriuscita del vulcano che c'è lì. Allora, non è che succedono tutti i giorni, l'ultima volta che qui a La Palma è stato 50 anni fa, nel 71. Quindi non è che tutti i giorni ci siano delle grandissime eruzioni, però ci sono in tutte le isole delle bocche di fuoriuscita di questo magma. Ma se andate dove c'è il Timon Fire, la Lanzarote, vedete che ci sono tutte queste manche a Tenerife, ci sono, ci sono la Palma. E quindi sicuramente quando ci sono queste eruzioni, prima ci sono delle piccole fuoriuscite. Allora, prevedere se ci sarà una mega fuoriuscita di lava è come pensare, prevedere che ci sia un terremoto. Cioè, nessuno esclude il fatto che, certo sono anni e anni che non succede, ma nessuno esclude il fatto che le isole Canarie possano riprendere un'attività magari fortissima di eruzione. Che ne sai? O a un certo punto parte e parte, sono cazzi. Chi vive alle Canarie, a meno che sia un caso umano, penso che sappia che sta vivendo su un vulcano. Cioè, chi vive a Tenerife, penso, sappia che sta vivendo su un vulcano e non su un'isola. Chi vive alla Palma sta vivendo su un vulcano. Tutti vivono su un vulcano, lì così. È chiaro che questa cosa non ti succede da un giorno all'altro, ma tutto quello è un vulcano. Cioè, ragazzi, tanto è vero che quando si ritirano le maree, non sei, che ne so, a Ibiza o a Lanzarote, dove comunque hai delle spiagge meravigliose, eccetera. E quando si ritira praticamente un po' la marea, vedete proprio tutto il nero, il nero del vulcano. Cioè, sono isole vulcaniche. E molte spiagge che vengono fatte lì alle Canarie sono spiagge artificiali, come quelle che ci sono, per esempio, a Tenerife, Teresita, su cui hanno preso praticamente la sabbia dal Sahara, l'hanno portata lì. Perché in realtà, quando poi si abbassa la marea, vedete tutto nero, tutto il nero, praticamente, del vulcano. Sono isole vulcaniche, ragazzi. E quindi, essendo su un'isola vulcanica, può succedere che nel corso degli anni, nei millenni, eccetera, eccetera, possa capitare che ti imbatti in un discorso eruttivo. In questo momento, limitato all'isola della Palma, le ultime tre eruzioni ci sono state lì, le ultime tre eruzioni, due, sono state lì, che purtroppo hanno già distrutto case, hanno dovuto sfollare più di 5.000 persone. Quindi c'è un problema della gente, sia autoctona del posto, che magari della gente che era lì, magari pensionati. È un'isola alla Palma dove, per la sua conformazione, molto frequentata da tedeschi, perché ai tedeschi gli piace molto andare a fare le varie camminate, il famoso Wander in tedesco. E quindi hanno già distrutto case, hanno dovuto sfollare. C'è il problema che quando poi esce, c'è una fuoriuscita di, ovviamente, di magma, di gas, che non fa sicuramente bene alla salute. È un problema di pioggia acida che potrebbe verificarsi. Adesso non so da dove tirano i venti, quindi non so se anche le altre isole verranno interessate comunque da queste problematiche. Comunque ci sono tutta questa serie di problematiche. Mi sente che purtroppo sta perdendo casa, è spazzata via dal magma, da gente che non sanno quando potranno rientrare, da gente che non sa quando finirà questa situazione. Quindi c'è anche un discorso emergenziale, al di là del discorso turistico, che ne parlo alla fine del video. È una brutta situazione. È una situazione, diciamo, per alcune persone magari non come il terremoto, che magari ti arriva e rimani sotto e muori, però questo ti dà la possibilità di scappare, però ti dà purtroppo anche la possibilità magari di vedere la tua casa distrutta o di non poter più rientrare perché ci sono casini. Se voi andate su Altede vedete quintalate, tonnellate di lava in giro, quindi potrebbe anche succedere. Così come dicono che continuano a dire che prima o poi tutta la costa, perché siccome le canarie si trovano appena sopra, mi pare, il tropico del cancro, più o meno a livello dei Miami, Cuba, quelle zone lì, dicono anche che c'è un pericolo tsunami, perché ci sono dei costoni delle canarie che se si dovessero staccare e cadere in acqua creerebbero degli tsunami. Forse uno, non vorrei dire una cretinata, è tutto il costone che c'è a Tenerife, anche di Los Gigantes, che è enorme, che se si dovesse staccare, entrare in acqua, forse anche uno alla Spalma, alla Palmas, alla Palmas, sì. Che questo creerebbe un maremoto che poi partirebbe, andrebbe poi a battersi sui Caraibi, su Miami e spazzerebbe via Miami praticamente. Se lì cade una cosa del genere, perché è proprio in linea con Miami e con, penso anche Cuba, quelle situazioni lì, più o meno. Quindi potrebbe essere un pericolo anche là. Dicono gli esperti che prima o poi succederà, è chiaro che si parla magari di migliaia di anni, di decine di anni, di centinaia, non si sa. Comunque sono vulcani che sono sempre attivi lì e è chiaro che non è che succede un giorno all'altro, è già successo 50 anni fa, poi magari lì la situazione fra magari qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, poi rientra la Palmas e le altre isole vivono, diciamo, in maniera abbastanza più serena. Diciamo che questa cosa, in Italia hanno detto qualcosa, ma la maggior parte, diciamo, dei turisti, diciamo, della gente non lo sa. Cioè non gliene frega niente in questo momento, la gente è altra a cui pensare che non è un'eruzione alle Canari. Chi può essere interessato? Può essere interessato chi ovviamente ha intenzione magari di andare a fare una vacanza. Chi vive là ovviamente non è preoccupato, nel senso che comunque è limitato a questa isola, quindi cioè non è, anzi, è molto, cioè quando la gente dice ma chi vive là non gliene frega un cazzo, poche parole, a parte essere dispiaciuto ovviamente per le persone che verranno evacuate, ma chi vive a Forteventura, Gran Canaria, Tenerife, non corre nessun problema. È più facile che corri un problema a te se scendi una scala che chi abita là. Però può essere sicuramente un fattore, comunque girando la notizia a livello mondiale e tenendo presente che il turismo alle Canarie non è fatto dagli italiani, italiani sono comunque una parte minoritaria, sicuramente a livello turistico sia chi deve andare là è cosciente che c'è questo problema ed è cosciente anche magari il tedesco, l'inglese e anche se andare là a fare una settimana in realtà ovviamente non devi andare alla Palmas e non corri nessun pericolo sicuramente in una situazione già di difficoltà perché comunque i numeri del turismo non sono di certo quelli di una volta, anzi, con la spianata che deve arrivare a livello economico, con la gente che comunque con le bollette ha più 40% di gas, luce, cioè con la gente sempre più impoverita io penso che il peggio deve ancora arrivare proprio a tutti i livelli la gente farà veramente fatica secondo me un domani anche a fare la spesa, non a prendersi e andare in vacanza alle Canarie tenendo presente che già per fare un volo devi fare tutta una serie di rotture di scatole, tamponi, green park, tutte queste cose qua e viaggiare con la mascheriglia, mettere la mascheriglia, già questo limita moltissimo. Sicuramente secondo me può impattare diciamo non magari per tantissimo però potrebbe impattare per la stagione invernale che secondo me già la vedo non brillante sicuramente può impattare sul turismo perché magari erratamente magari qualche persona dice no cavolo adesso ho sentito che alle Canarie ci sono vulcani che stanno eruttando, c'è casino, c'è gente evacuata, c'è una situazione un attimino non ben chiara e quindi questo potrebbe sicuramente dal mio punto di vista inficiare sul turismo e molte persone magari rinunciano anche per quello erratamente perché chi decide di andare a Tenerife e vuole farsi una settimana non c'è nessun problema però sicuramente emotivamente può comunque creare e creare comunque dei problemi questo qua, speriamo poi per questa gente che l'eruzione duri meno possibile che vengono coinvolte meno case possibile anche se purtroppo bisogna imparare che noi in Italia non lo facciamo perché basta vedere da dove noi ci sono i vulcani che comunque sono ancora se ne eruttano da centinaia di anni ma comunque sono sempre attivi non bisogna costruire sotto le bocche d'uscita dove esce il magma questo è poco ma sicuro io spero che questa situazione rientri abbastanza brevemente perché altrimenti tutta questa popolazione queste 5.000 persone e altre case verrebbero comunque distrutte oltre quelle che sono già state comunque già abbattute dalla lava questo qui è quello che mi auguro che la cosa rientri abbastanza velocemente in un altro video poi analizzeremo la follia dei prezzi delle case perché ho notato che c'è ancora gente che vende a dei prezzi folli folli, assurdo mentre invece ci sono ci sono delle buone luci per quanto riguarda la penisola in posti che dal mio punto di vista sono turisticamente paesegisticamente mille volte meglio che le Tenerife le Forteventura le Canarie in generale anche se ripeto sono bei posti sono sempre bei posti però ci sono molti posti bellissimi in penisola spagnola dalla Costa Blanca venendo giù fino a scendere fino a Mursia andando giù a Cartaghera compagna vale che dove già si hanno dei prezzi ottimi di case che andrò più avanti a farvi vedere le Canarie rimangono sempre un bellissimo posto anche se vabbè sono isole oceaniche e di certo non sei ad Alicante o non sei a Ibiza che il mare lo trovi comunque caldo ma le Canarie comunque sei sull'oceano il mare è freddo cioè è chiaro pansegisticamente sono posti ottimi climaticamente sono posti ottimi sicuramente era ottimo fino a prima di tutto questo casino dove magari con autonomamente perché io credo che sia folle che uno oggi per andare a farsi una vacanza di dipendere dagli altri basta usare minimamente internet è una cretinata a prendersi un volo è una cretinata a andare su buchi a prendersi un hotel o qualcosa era un posto che fino a poco tempo fa a parte Natale ma subito dopo Natale o prima di prima di Dicembre si trovavano voli a 100 o 150 euro e ti riuscivi a fare una vacanza con 500 euro e quindi una settimana poter svernare oggi c'è il casino certo lo puoi sempre fare vai sempre su booking sempre le trovi l'unica cosa che devi avere un po' di rotture di scatole con mascheriglie tamponi compagnia varia resta sempre un buon posto per svernare climaticamente poi va bene non è sempre così perché è capitato alcune volte io sono andato giù che trovi anche la settimana brutta quindi non è che c'è sempre bello però è sempre un posto che era buono per poter svernare su vivere avrei molto da dire perché se io penso a a Tenerife è come fare una passeggiata in un Tenerife o tutti gli altri posti è come fare una passeggiata in un in un ricovero poi va bene sei sempre su un'isola sono sempre quei quattro metri che fai quindi la penisola ti permette comunque di girare le prove sono questione scelte di vita ovviamente turismo penso e credo che si riprenderà al 100% io ho detto che ci vorranno 10 anni e per me ci vorranno 10 anni per tornare minimo ai livelli che si faceva nel 2018 2019 per tornare a quei numeri lì ci vorranno almeno più di 10 anni anzi penso che nei prossimi anni sarà ancora peggio perché la spianata vera deve ancora arrivare a livello economico con la iperinflazione la gente avrà difficoltà a riscaldarsi in casa e andare a comprare da mangiare pensate di andare in vacanza sicuramente un po' inficerà comunque questo discorso sul turismo e spero di no comunque non più di tanto per la isola che comunque hanno già abbastanza difficoltà la gente che lavorava lì sul discorso invece canarie prezzi case lo analizzeremo in un altro video e io trovo follia pura che vendono ancora appartamenti sopra gli 80 90 o 100 mila euro cioè io reputo che per come sono fatti quegli appartamenti per la qualità di quegli appartamenti pagare più di 30 mila euro 35 mila euro per un appartamento lì alle canarie è pura follia pura follia anche perché a questi prezzi qui hai su tutta la costa blanca fino a salire anche fino su sotto taragona hai migliaia di appartamenti a 40 50 35 mila in posti che sono anche meglio da questo punto di vista niente vi mando un abbraccio speriamo che finisca questa situazione comunque ecco il mio consiglio è che se qualcuno ha prenotato o vuole andare in vacanza ci vada tranquillamente nel senso che comunque non correte nessun pericolo cioè se avete prenotato non so per andare a Tenerife o Gran Canaria cioè andate tranquillo non anzi magari in questo momento magari se andate su booking e cercate qualche hotel non so adesso molti hotel sono ancora chiusi per via della crisi però sicuramente magari in questo momento che magari qualcuno disdice potete trovare anche dei prezzi migliori quindi se dovete andare in vacanza andateci tranquilli che non c'è nessun pericolo a questo punto di vista ok un abbraccio a tutti ragazzi che non c'è nessun pericolo